Qualcuno tenta di fare passare una vittoria schiacciante per una mezza vittoria, se non addirittura per una mezza sconfitta. I fatti parlano fortunatamente un'altra lingua. Intanto il centrodestra torna alla guida della provincia di Catanzaro dopo la fallimentare e soprattutto inutile parentesi della presidenza Bruno. Lo afferma il consigliere regionale Domenico Tallini, coordinatore provinciale di Forza Italia Catanzaro. La vittoria di Catanzaro, unita a quella di Vibo Valencia, riporta il centrodestra e marcatamente Forza Italia, dice Tallini ai microfoni di RTC, al centro del sistema politico calabrese. Questo dato rappresenta un buon viatico per i futuri appuntamenti elettorali, a cominciare dalle europee di maggio e per finire alle regionali. Il centrodestra, unito nelle sue varie componenti, ha dimostrato di essere vincente e convincente, ha aggiunto Tallini ai nostri microfoni. Vittoria è molto striminzita, Tallini, a cosa lo addebita? Problemi nel centrodestra, la catanzarese. No, no, assolutamente. Il centrodestra, lo addebito al potere di, diciamo, si potrebbe dire di corruzione, ma insomma io non voglio dire questo perché i voti sono espressi dai consiglieri, però certamente se la maggioranza a Catanzaro ha 22 consiglieri comunali e prende 20 voti vuol dire che ci sono stati due voti della maggioranza che hanno votato per il centro-sinistra. Quindi soprattutto il nostro miracolo è nella provincia, soprattutto nei piccoli comuni, laddove la differenza è stata molto di meno e per reggere a questo fronte diciamo di gestione guidato direttamente. Pensate che a Catanzaro oggi e ieri a Vimbo ci sono stati i maggiorenti regionali del PD che hanno fatto proprio questo compito, sono andati a contattare singole persone per fare operazioni di recupero, operazioni che poi in parte sono avvenute ma che non sono state sufficienti per ribaltare completamente il risultato. Vimbo ha vinto chi doveva vincere nonostante tutto quello che è avvenuto e diciamo che da domani Sergio Abramo governerà la provincia come se avesse avuto 20.000 voti di vantaggio perché se le elezioni si fossero svolte liberamente avremmo vinto con questo distacco, io sono convinto di questo.